ciao in questo video impareremo a preparare un pigmento sintetico mediante una reazione di precipitazione il pigmento prende il nome di giallo di cromo chiaro ed è il cromato piomboso la sua preparazione molto semplice tuttavia è necessario prestare particolare attenzione al trattamento dei reagenti e del prodotto ottenuto oltre che al corretto smaltimento dei rifiuti data la loro notevole tossicità il giallo di cromo chiaro è un pigmento minerale inorganico sintetico non particolarmente coprente mediamente stabile alla luce alla temperatura e dall'umidità talvolta tende a scurirsi a contatto con l'aria impiegato sin dall'ottocento di recente è stato sostituito da pigmenti meno pericolosi per la salute chimicamente corrisponde al cromato piomboso pbcr4 ottenibile mediante reazione di doppio scambio fra il nitrato piomboso ed il cromato di potassio la reazione di sintesi può essere così rappresentata per realizzare questa sintesi abbiamo bisogno di due becker due bacchette in vetro una spatola una spruzzetta della carta da filtro un imbuto una beuta del nitrato piomboso e del cromato di potassio in un becker si dissolve una piccola quantità di nitrato piomboso in acqua distillata la soluzione appare opalescente e biancastra in un altro becker si introduce invece una punta di spatola di cromato di potassio dando luogo ad una soluzione limpida colorata di giallo si versa la seconda soluzione nella prima e immediatamente si forma un precipitato giallo che si deposita sul fondo si lascia decantare per qualche tempo poi si procede alla filtrazione è necessario piegare correttamente la carta da filtro per posizionarlo nell'imbuto e bagnarlo con un po d'acqua affinché possa aderire alle pareti per mezzo di una bacchetta poi si versa delicatamente il tutto nell'imbuto poco per volta il filtro trattiene il cromato piomboso il nostro pigmento quello che passa attraverso il filtro è invece nitrato di potassio in colore ma anche eventuale eccesso di cromato di potassio non reagito che conferisce colore giallo alla soluzione del filtrato si lascia essiccare per eliminare l'acqua dopo dopo qualche tempo è possibile raccogliere il prodotto che si presenta con un colore giallo chiaro ma che con il tempo può scurire ed assumere una colorazione simile all'arancio grazie grazie grazie